allora iniziamo inseriamo i nostri dati username che può essere il tuo nome d'arte o qualsiasi altro nome che preferisci dare poi ci inventiamo una password poi ripetiamo la password poi scegliete una di queste domande come domanda di sicurezza può sempre servire io ho messo che scuola andrano poi andiamo sui dati personali allora questi sono opzionali se volete azienda e tito io non metto poi maschio nome graziano cognome accoto data di nascita 18 383 poi la mail dove volete comunque che vi arrivano tutte le comunicazioni e poi la domanda come se è venuto a conoscenza di fair io ve l'ho già detto vi ho fatto una prefazione da un amico poi perché siamo interessati a usare fair e crocettiamo potete anche crocettarle tutte vi può servire in futuro se avete un codice buono non so da dove potrebbe arrivare questo codice io non ho e quindi niente e infine iscriviti gratuitamente una volta fatto ciò vi comparirà questa schermata che in sintesi vi dice congratulazioni vi siete registrati e contemporaneamente vi arrivano due mail di cui una riguarda le informazioni importanti su fair come le caratteristiche che deve avere il file audio da caricare cioè solo file wave la misura che deve avere la cover o copertina cioè le dimensioni e i pixel e anche qualcosa sugli ebook ti raccomando di essere molto preciso e rispettare i parametri richiesti da fair se non vuoi ritardare la tua pubblicazione e vederti la canzone bloccata finché non carichi con le impostazioni richieste fair è molto fiscale su questo infatti è un distributore che punta molto sulla qualità del prodotto poi andiamo sulla seconda mail quella per attivare il tuo conto come la stessa si intitola e clicchiamo sul link qui giù uscirà questa schermata registro che dice congratulazione la tua iscrizione è stata effettuata con successo ora puoi inserire il tuo nome utente password per entrare da qui dopo qualche secondo ci troviamo all'interno di fair dove in alto in questa barra gialla ci sono scritti i giorni di tempo 179 che ci restano per attivare il conto e quindi poter caricare la nostra musica clicchiamo qui per confermare il tuo conto e iniziamo a confermare il nostro conto seguendo questi cinque step allora il primo step ci chiede di mettere il nostro numero di telefono allora mettiamo il prefisso dell'italia più 39 e poi il nostro numero di telefono e facciamo invia nella barra verde qui su ci conferma che il numero di telefono è stato aggiunto correttamente e oltretutto ci arriverà sul telefono un pin numerico di cinque cifre che dovremo inserire qui se non avete ricevuto il pin dopo qualche minuto cliccate non ho ricevuto l'sms con il codice pin altrimenti inserite il pin e fate invia a me non è arrivato subito allora clicco non ho ricevuto l'sms con il pin arrivato inserisco e invia e se tutto ok ci dirà che il tuo telefono è stato validato lo vedo qui nel riquadro verde e ci troveremo al secondo step dove ora inseriamo il nostro indirizzo la via la piazza o strada il numero civico il cap la città e il paese italia e invia il nostro indirizzo è stato inserito e nei prossimi giorni ci arriverà una lettera di conferma ma nel frattempo possiamo continuare ad usare l'account in prova ho aspettato una settimana e finalmente è arrivata la lettera eccola si vede che è arrivato dalla germania apriamo e dentro è presente un foglio scritto fronte retro sia in tedesco che in inglese dove sono presenti delle informazioni e il pin di cinque numeri che useremo per andare avanti nell'attivazione del conto sospeso qualche giorno fa entriamo su fair e infatti vediamo qui su eravamo a 179 giorni rimanenti ora siamo a 175 clicchiamo nel caso sono passate più di due settimane e non vi è arrivata nessuna lettera clicchiamo non ho ricevuto la lettera e mi appare questa schermata dove richiediamo un'attivazione alternativa fornendo carta d'identità e poi una bolletta hanno intestato come dice bolletta del telefono io metto la bolletta della luce nel mese scorso appena avranno valutato i tuoi documenti ti invieranno una mail che vi aiuterà a risolvere il problema ma ora torniamo dove eravamo rimasti abbiamo ricevuto la lettera con il pin numerico a 5 cifre e inseriamo qui il pin e facciamo invia una volta fatto ciò passiamo al terzo step dove spuntiamo qui ho letto compreso l'accordo di licenza e invia così passiamo al quarto step che ci dice qui nella striscia verde che abbiamo accettato termini e condizioni e allo stesso tempo ci è arrivata una mail andiamo sulla mail questa mail ci dice che abbiamo accettato il contratto di licenza per la distribuzione con fair alla stessa troviamo allegato questo contratto scritto ahimè solo in tedesco torniamo ora dove eravamo rimasti al quarto step dove ci chiede di cliccare qui per confermare il tuo account clicchiamo e così confermiamo il conto e qui ci dice poi che l'autenticazione a più fattori non è attiva e cioè il nostro account non è completamente protetto da accessi non autorizzati per attivare l'autenticazione a più fattori clicchiamo qui su enable mfa cioè attiva questo sistema mfa è un sistema come quello delle banche nelle transizioni online cioè viene richiesto un codice a 6 cifre ogni volta che accediamo per abilitare questa funzione dobbiamo scaricare un app di autenticazione qualsiasi app come google authenticator l'importante è che scansioni il codice qr ma visto che siamo all'inizio non abbiamo guadagni o non vogliamo perdere altro tempo possiamo farlo in un altro momento e ora ci chiamo a caricare la nostra musica allora torniamo indietro e facciamo salta per ora e clicchiamo qui e andiamo a caricare il conto di fair possiamo caricarlo tramite paypal o carta di credito dopo aver caricato il conto con la carta di credito vi troverete nel nel quinto step dove dovete fornire i vostri dati bancari per i pagamenti successivi cioè dove volete che fair vi accrediti i vostri profitti maturati questo potete farlo pure dopo tanto avete tempo finché non guadagnerete i vostri 25 euro a fatto che volete riscuotere i soli 25 euro potete richiedere la riscossione dei guadagni solo dopo che avete maturato almeno 25 euro io ricarico tramite paypal se effettuate la ricarica del conto con la paypal di almeno 12 euro che poi sono all'incirca quelli che occorrono la prima volta potete soffrire dell'opzione che i ricavi vi vengano accreditati a richiesta su questo conto paypal senza aggiungere altro conto ecco questo era tutto ora siete registrati e avete il vostro conto di fair carico grazie per avermi ascoltato e seguito fin qui se vi sono stato utile e di aiuto fatemelo sapere qui sotto nei commenti sono contento di leggervi e rispondervi iscrivetevi al canale e accendete la campanella così sarete avvisati quando pubblicherò altri video su questo distributore